Ciao a tutti, io sono il Dilando Goffilo, oggi recensione dell'album in sile numero 57, Ritorno al Crepuscolo, che possiamo trovare anche all'interno del libro Best Seller, Fra la vita e la morte, edito dalla Mondadori. La copertina originale di Angelo Stano qui non è presente, però abbiamo comunque in questa copertina un ottimo richiamo, davvero molto molto simile all'originale disegno comparso sul numero 57, quindi vi faccio vedere questo disegno che è praticamente uguale. Veramente molto buono e rappresenta molto bene una delle tante scene, diciamo, di quest'impronta particolarmente agghiacciante che troveremo all'interno di questa avventura con teste e sceneggiature di Tiziano Sclavi, disegni di Montanare Grassani. C'è il Dottor X che dopo un battibecco davvero molto importante scaturito in diverse occasioni passate, comunque decide di chiedere aiuto a Dylan Dogg, lasciare da parte un attimo le loro rivalità e creare così, diciamo, una tregua fra queste due persone. Il Dottor X infatti chiederà a Dylan di scortare fino alla zona del crepuscolo una sua figlia clone perché l'esperimento è andato a male e questa figlia sta per morire e solamente grazie alla mesmerizzazione potrà vivere in eterno e sfuggire alla morte. La mesmerizzazione qui andrà a compiere un ruolo fondamentale, è la chiave su cui si basa tutta l'intera vicenda e qui abbiamo dei forti richiami alla zona del crepuscolo, l'avventura originale, l'album in sede numero 7 e Tiziano Sclavi va ad arricchire questo panorama di Invergari con una sceneggiatura particolarmente horror. Non c'è una vignetta che non faccia paura in quest'albo e questo è un plus non da poco perché il fumetto è per l'appunto sì da autore ma anche horror. Abbiamo dei disegni di Montanari e Grassiani strabilianti che vanno a contornare alla perfezione tutte le atmosfere che vuole proporre Tiziano Sclavi. Ecco questa qui è solamente una delle vignette horror, sì non ci ho quasi dormito alla notte perché abbiamo anche dei jump scare, praticamente noi giriamo pagina, il lettore gira pagina e si ritrova davanti a delle situazioni con un altissimo tasso di horror che davvero lo fa subbalzare dalla sedia o dal letto a seconda di dove leggete l'albo. Ci saranno anche degli accenni agli universi paralleli, dei mondi che andranno ad intersecarsi di loro a causa di interallazzi spazio-temporali, ci sarà anche la teoria del buco nero che sarà un po' il simbolo di questa avventura. Quindi Tiziano Sclavi che ci va a raccontare tante cose anche di fisica, poi c'è anche l'unirico, c'è anche l'oro, insomma una storia che secondo me racchiude tanti concetti che stanno alla base, alle fondamenta del mondo di Dylan Dogg vero e proprio. Per questo la storia si becca come voto finale un 9, però c'è da sottolineare una cosa nella trama. Come vi ho detto all'inizio in fase di presentazione, la missione di Dylan sarà portare questa ragazza in salvo, ma dopo, per causa, per colpa di una situazione caotica davvero, non riuscirà secondo me a portare a termine questa missione. La trama iniziale va a sfumarsi poi in quello che sarà un delirio vero e proprio. Quindi la base della storia, l'origine della storia va un po' a perdersi nelle pagine, però tutto sommato poco male perché l'avventura rimane comunque bene leggibile e un senso compiuto alla fine c'è. Che altro dire di questa avventura? L'ironia gioca anche un ruolo fondamentale. Chi mi segue su Instagram avrà sicuramente visto in anteprima sul mio, sulla mia pagina alcune vignette simpatiche di quest'albo che davvero fanno ridere. Tiziano Sclavi crea un pochino di confusione in questa avventura perché va ad intersecare tutte queste situazioni particolari tra di loro, ma tutto sommato è nulla di illegibile, ma anzi si riesce bene a capire ciò che vuole spiegarci in questa occasione questo scrittore. L'unica cosa che non ho capito, e chiedo aiuto a voi, Dylan è stato mesmerizzato in questa avventura, non l'ho capito. Dylan che forse è morto e dopo è stato reso immortale grazie a questa sottospecie di ipnosi, però non ho capito se è stato vero, se è stato frutto di immaginazione, se è stato un attimo di, diciamo, allucinazione. Boh, questo me lo dovete dire voi perché per una volta, insomma, non ho ben capito questo dettaglio. Fermamente è tutto, se questa recensione in qualche modo ti è stata utile, se ti è piaciuta, condividila dove vuoi, iscriviti al canale YouTube del Dylan Dogofino per manere sempre aggiornato sul personaggio di Dylan Dog, e noi ci vediamo in un prossimo video dedicato al mondo dell'indagatore dell'incubo.